Il GIP presso il Tribunale di Gela ha convalidato il fermo di indiziato di delitto operato dai poliziotti del commissariato di Gela e quelli della squadra mobile la sera del 19 ottobre scorso nei confronti di un gelese in ordine ai reati di triplice tentato omicidio aggravato e detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo. L'uomo, la mattina dello stesso giorno, aveva esploso colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di un'autovettura sulla quale viaggiavano tre persone per futili motivi legati a dissidi in tema di confini di terreni. Nessuno degli occupanti del mezzo, fortunatamente, è rimasto ferito. Gli investigatori della Polizia di Stato, intervenuti immediatamente sul posto, hanno individuato il responsabile del reato e raccolto i gravi indizi di colpevolezza che hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere la convalida dell'atto di polizia giudiziaria.